rimaniamo educati perché siamo sempre educati io no, io non sono educato i quaduri di Napoli sono andati a Napoli ma sono sempre educati noi, sempre io sono educato, sempre educato mentre i quaduri di Napoli sono traditori non ci mettono come ti fa, non chiede a nessuna parte non è seguiti più, neanche il maratone, disertate allo stadio perché comunque era una partita che comunque non chiedeva niente e noi stavamo vincendo la partita non so come stavamo vincendo la partita e facciamo di tutto la parigiata perché io non ci devo dare una spiegazione non vengono la squadra che vengono non vengono i quaduri che vengono non vengono che vengono, la palla che avevano un difensore centrale, un portiere mia, due, qualsiasi poi non ero, tutto lezionato i muscoli ci ha segnato ma pure Polità Polità, io a Fafarenza ero Simeone la Fafarenza era Lindström non mi ha fatto niente non mi ha fatto niente non mi ha fatto niente